Buongiorno youtube lovers, siete sul canale di Cecilia, io sono Cecilia, anzi meglio Ceci e questo è un video per ringraziarvi veramente dal cuore per essere in così tanti guardavo pochi giorni fa che abbiamo superato i 10.000 iscritti al canale e questo è importantissimo per me, come sai questo è un canale dove non si vende nulla è un canale dove condivido ogni settimana, ormai da un paio d'anni, i Ceci Weekly che sono questi video dove di fatto come ben sai trasmetto lezioni di vita che però non sono cose che necessariamente io faccio sempre sono semplicemente dei pensieri, delle riflessioni che spesso ho bisogno di ricordare e di sentirmi dire e quindi le metto nel canale perché sono quasi convinta al 100% che anche voi possiate aver bisogno di un promemoria di tanto in tanto lasciatemi un commento qui sotto se vi piace quello che state vedendo fino ad ora o semplicemente un thumb up perché questo è l'unico modo per capire se sono sulla strada giusta intanto vi ringrazio per essere in così tanti e vi mando un bacio enorme